In tutto sarà di 14 milioni e 250 mila euro la dotazione finanziaria prevista a varere sulle risorse del patto per la Puglia per sostenere iniziative culturali nell'ambito della danza, della musica, del cinema, del teatro, dello spettacolo circense a cura della regione Puglia. Tra i progetti finanziabili per una quota minima di 538 mila euro vi sarà anche il Festival Castel dei Mondi di Andria. L'ente comunale infatti aveva preventivamente presentato la progettazione della storica Kermessa Andriese all'avviso pubblico regionale vedendo riconosciuta positivamente la valutazione della Commissione. In particolare il Festival Castel dei Mondi ha ricevuto un punteggio totale di 66,5 piazzandosi dodicesimo tra i progetti relativi alla sezione teatro, sezione in cui sono 22 i progetti totali che dovrebbero essere cofinanziati dalla regione Puglia. Tra i soggetti proponenti sempre per il teatro sono solo 4 gli enti comunali che hanno presentato ed ottenuto un cofinanziamento regionale. Per tutti gli altri progetti si parla di cooperative, fondazioni o associazioni culturali. È invece una SRL, il teatro dei Borgia, quella che a Barletta otterrà anche un cofinanziamento minimo di 248 mila euro per una valorizzazione del territorio attraverso lo sviluppo dell'impresa teatrale. Soddisfazione per la strada intrapresa da parte dell'assessore regionale alla cultura Loredana Capone. Con questo avviso, ha ricordato la stessa Capone, abbiamo voluto mettere operatori e istituzioni nelle condizioni di uscire fuori dalle estemporaneità della programmazione per progettare su un periodo medio e lungo. Tre anni per programmare le attività facendo attenzione a mettere in campo un'offerta sempre più di qualità e capace di essere competitiva a livello regionale e nazionale. Soddisfatto anche l'assessore alla cultura del comune di Andrea Luigi del Giudice che parla di risultato strepitoso se si considera che fino a due anni fa la regione interveniva solo con qualche decina di migliaia di euro.